Altro addio in casa Palermo che saluta il trequartista Robin Quaison. Lo svedese chiude così la sua parentesi rosa-nero dopo due anni e mezzo, firmando per il Mainz in Bundesliga. Nelle casse del Palermo entrano così 2 milioni e mezzo di euro più 500 mila euro di bonus, che sommati alla cifra incassata per la cessione di Iliemark, portano nelle casse siciliane un tesoretto di ben più di 5 milioni. Adesso occorrerà capire se e quanto di questa cifra verrà reinvestita per rinforzare un organico che ha palesemente bisogno di colmare diverse lacune in tutti i reparti. Il nuovo tecnico Diego Lopez ha già fatto intendere di avere piena fiducia nell'operato della dirigenza sul mercato. E allora adesso va tutto nelle mani del DS Salerno, che tenterà di sbloccare alcune piste nelle ultime ore di calciomercato. Smentito l'interessamento per Ibarbo, il calciatore piace ma si cercano profili diversi. A centrocampo si registra il fallimento della trattativa per New Corrie. L'affare era quasi fatto, ma l'inserimento dell'Udinese è stato fatale per il Rosanero. Secondo le ultime, il Palermo starebbe addirittura sondando il mercato di Lega Pro. Nel mirino è infatti finito Emanuele Cicerelli, classe 94, talento della Paganese. Il ruolo è lo stesso svolto negli ultimi tempi da Robin Quison, anche se certamente il Rosanero in questo momento hanno bisogno al più presto di rinforzi di categoria. Grazie. 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 Grazie.